Musica Nello splendido scenario di Via delle Rimembranze, a due passi da una valle dal paesaggio mozzafiato, si è svolta a Mineo la prima edizione del Caffè Incontro, promosso dal Centro Studio Cesta, editora del giornale online Il Solidale, in rete da poco più di due mesi. L'evento, che è rientrato nel programma dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Agrippina, è stato ideato per far conoscere ai cittadini menenini l'attività svolta dal distretto agroalimentare del Calatino all'esposizione universale di Expo Milano 2015, dove è stata presente dal 29 giugno al 5 luglio scorso. La serata appunto ha avuto come tema Mineo all'Expo Milano 2015 con il distretto agroalimentare del Calatino, il territorio tra arte, cultura, tradizione e fede. Prima della tavola rotonda, moderata dal giornalista Florinda Perrotta, è stato proiettato il video che durante le giornate milanesi ha riscosto molti apprezzamenti dai visitatori del cluster Biomediterraneo, terre del Calatino, accoglienza, cultura, sapore d'eccellenza, opera del noto regista catenese Paolo Barone. Non si fermano a Gran Michele gli episodi di criminalità nei confronti di attività commerciali del territorio. A diverse settimane dagli ultimi episodi, ad essere colpita nelle prime luci dell'alba di mercoledì 26 agosto, è stata una rivendita di tabacchi situata sul Corso Roma a pochi passi dalla centralissima piazza Carlo Maria Garaffa. La dinamica risulta essere la consueta, affidata al metodo dello sfondamento, dapprima con un'autariete e successivamente con una mazza per sfondare le porte con vetro blindato. Da una prima ricognizione da parte dei proprietari intervenuti immediatamente sul luogo, dopo la segnalazione dell'allarme centralizzato, risultano stati prelevati ingendi quantitativi di sigarette presenti presso l'attività commerciale. Un senso di indignazione e rabbia di abbandono da parte delle istituzioni sociali e politiche, da parte dei proprietari davanti all'ennesimo farto di criminalità che colpisce la città esagonale. Urge un'azione immediata ormai da tempo necessaria agli occhi di tutti i residenti. L'amministrazione comunale di Gran Michele ha fissato per il prossimo lunedì 31 agosto alle ore 10 l'attuazione dell'ordinanza sindacale numero 15 del 2309 2014 riguardante la riappropriazione dell'impiante e la gestione idrica sul territorio della città di Gran Michele affidata precedentemente alla SIE. In proposito, si indice per giorno 27 agosto, alle ore 19 presso l'Aula Consigliare Comunale, un confronto con le forze politiche, sindacali e sociali cittadine sul tema acqua bene primario dei cittadini, verso la gestione pubblica. Sono invitate all'incontro i cittadini, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, i circoli e organizzazioni sociali. Comunicato stampa della lista civica Idee e Movimento di Gran Michele richiesta all'amministrazione di cambiare l'ordine del giorno del confronto previsto per il 27 agosto. L'amministrazione ha organizzato per giorno 27 agosto prossimo un confronto con le forze politiche, sindacali e sociali sul tema acqua bene primario dei cittadini, verso la gestione pubblica. Considerato che un confronto sul tema oggi appare un semplice comizio su decisioni già prese e visti i recenti episodi di criminalità che continuano a verificarsi a Gran Michele come non mai nel passato, la stessa lista civica Idee e Movimento invitano il sindaco e la giunta del Consiglio Comunale ad adoperarsi per cambiare l'ordine del giorno dell'incontro affinché si possa discutere immediatamente su come approntare un piano di sicurezza efficace per la città. Senza la collaborazione degli imprenditori, delle relative organizzazioni di categoria, senza l'ausilio dei cittadini e delle famiglie granmichelesi e senza una piena disponibilità dell'amministrazione verso le forze dell'ordine, nessun impianto di videosorveglianza potrà essere di per sé sufficiente. Domenica 30 agosto alle ore 19.30 presso il Salone Parrocchiale di Granieri, l'Associazione Culturale Quelli che Granieri organizzerà un incontro tra produttori ed enti. L'incontro di Granieri è l'occasione per valutare le strategie in atto e gli strumenti di intervento per mettere in rete le molteplici e diversificate iniziative ricettive, le produzioni tradizionali, le preparazioni enogastronomiche, le risorse culturali e ambientali in base a criteri predefiniti, condivisi e di qualità, in un'ottica di rafforzamento dei risultati per il rilancio dell'agroalimentare e della sostenibilità ambientale. I temi che verranno trattati sono la nuova PAC e i giovani imprenditori con relatore dottor Camelo Nicotra e azioni di sistema per promuovere l'offerta territoriale e programmazione europea 2014-2020. In questi anni i Galli siciliani, il loro consorzio, l'Agenzia per il Mediterraneo e altre istituzioni hanno avviato interventi per valorizzare e promuovere l'offerta territoriale della Sicilia, nonché per organizzare la filiera corta, la rete di arie, mercatili e vetrine promozionali e la relativa strategia di marketing territoriale, relazionerà il dottor Michele Germana. Si terrà la mostra concorso Il Bosco di Santo Pietro dal 27 agosto con termini di presentazione delle opere la mostra per flora, fauna e menti naturali a cura dell'associazione Pentaprisma Fotografia. Il Cinema Sotto le Stelle all'Educantato San Luigi, biblioteca comunale in via Santa Maria di Gesù a Caltagirone il 27 e il 28 agosto Minions, in anteprima nazionale. Su iniziativa dell'Ufficio Comunale Ecologia del Comune di Caltagirone allo scopo di contrastare la proliferazione di insetti tornerà ad essere effettuato dal 27 al 29 dalla ditta Dasti, affidataria del Servizio di Igiene Ambientale e la disinfestazione. Secondo questo programma, giovedì 27 centro storico, venerdì 28 centro nuovo, sabato 29 periferie e frazioni. I cittadini sono pertanto invitati nelle suddette giornate a lasciare chiuse le imposte a non esporre sui balconi generi alimentari, panni ed altro lo scopo di evitare eventuali contatti con i prodotti usati. Dal 28 agosto al 13 settembre si terrà presso la parrocchia Sant'Anna a Caltagirone e col patrocino del Comune di Caltagirone la festa di Maria Santissima Bambina. Previsto per il 28 agosto la Santissima Messa e l'apertura dei festeggiamenti nella chiesetta di Sant'Anna, per il 30 agosto una Santa Messa con la partecipazione dei diaconi permanenti della città di Caltagirone e processione sul piazzale e per il 31 agosto la Santissima Messa con il Santissimo Rosario e un'altra Santissima Messa presieduta da Don Franco Di Stefano, rettore, parroco del Centroio del Ponte con la presenza dell'Unitalsi e case e famiglie del territorio parrocchiale ammalati. Per le ore 20 adoro il lunedì ad orazione eucaristica fino alle ore 24. Granieri torna protagonista nella manifestazione Sapori Rinavota 2015, venerdì 28 agosto con l'apertura della mostra Artifici a cura dell'Associazione Terra Erea. Alle ore 19.30 avverrà l'esposizione del Santo Patrono San Giovanni Battista sul sagreto della Chiesa per una venerazione da parte dei fedeli. Alle ore 20.30 apertura della Kermesse Sapori Rinavota con la degustazione di prodotti tipici e numerosi ospiti durante la serata. Conclusione affidata a Ruli Rodriguez in concerto alle ore 22.30.